Francesco Totti, buongiorno. Qualche emozione l'avrai provata vedendo quelle immagini? Sì, vedere uno stadio di questo genere penso che è una cosa bellissima, spero di riuscirlo a capestarlo, anche se è molto dura. Ecco, appunto, allora. Le parole più importanti per me è il veloce, essere veloci a costruire questo stadio. Ecco, quindi bisogna adottare uno schema di gioco molto veloce. E appunto, tu ormai stai battendo tutti i record in termini di realizzazione di gol, dovresti coltivare questa speranza di segnare un gol anche nello stadio intitolato, posso dirlo, al tuo presidente, più tuo, certo, di chiunque altro. Questa penso sia la cosa più importante, più doverosa. Però, come ho detto prima, spero di riuscirci. Tra un po' dovrei firmare il contratto, questi cinque anni spero che riescano a fare questo stadio. Paolo Maldini ha giocato fino a 40 anni, non mettiamo limiti, no? Vabbè, lo vuoi bene, altri due anni in più. Appunto, altri cinque anni. Hai l'età di mio figlio, esatta, quindi... Già 38 sono troppi, mezza. Vabbè, vabbè, ma speriamo di fare il tempo prima. Grazie, Francesco.